Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione un po' particolare che proviene da calcio e finanza. Perché ragazzo, oggi vi leggo un bell'articolo di calcio e finanza che riguarda la Juve ed un ritorno molto importante. Cerco le cose intanto qui attorno a me, che riguarda ovviamente la Juventus. Ora, è un articolo di qualche giorno fa che io sono andato a prendere per voi. Voglio leggerlo perché c'è un annuncio molto importante. Voi sapete che la Juve cambia, no? Sapete quanti cambiamenti ultimamente ci sono stati per quanto riguarda la Juventus. Sapete che anche a livello interno ci sono stati veramente tanti cambi. C'è un ritorno importantissimo per la Juve che secondo me potrebbe veramente essere interessante. Quindi fra pochissimi secondi andiamo a parlarne insieme cercando anche di capire un pochino, di commentare, di leggere un pochino quello che sta succedendo per quanto riguarda ovviamente questa situazione. Ovviamente ragazzi però prima di iniziare che cosa dovete fare? Ragazzi sempre molto spesso cosa fate? Iscrizione, solito like, solita campanellina ovviamente sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi ovviamente non attivate la solita campanellina delle notifiche non vi arrivano praticamente mai video. E se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social, quindi questo è importantissimo. Allora, articolo di calcio e finanza. Chiellini torna alla Juve. Da settembre, vedete qui, sarà un dirigente bianconero. Quindi voglio leggervi un pochino l'articolo e poi lo commentiamo insieme. Allora, a settembre Giorgio Chiellini tornerà alla Juventus. L'ex capitano bianconero si prepara così a rientrare nel club dopo 800 giorni, ma questa volta in un ruolo diverso. Il ritorno di Chiellini è nell'aria sin dal suo emozionante addio nel maggio del 2022. Ora però è pressoché ufficiale, Chiellini rientra alla Juve non come giocatore ma come dirigente in formazione. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dopo aver chiuso la sua avventura calcistica negli Stati Uniti il mese scorso, Chiellini, che sta per compiere 40 anni, riprenderà la sua vita a Torino alla fine di agosto e tornerà ad essere parte integrante della Juve. Inizierà a lavorare all'interno del club, non più in campo, ma negli uffici dove studierà e lavorerà a stretto contatto con la dirigenza, in particolare con l'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Anche se con un nuovo ruolo, Chiellini porta con sé l'esperienza di 561 presenze in maglia bianconera. Pur conoscendo, proseguo ovviamente poi lo commentiamo insieme questa cosa perché è un articolo secondo me interessantissimo, pur conoscendo profondamente il mondo del calcio e la Juventus dal punto di vista del giocatore, Chiellini ora dovrà imparare a comprendere gli aspetti aziendali, finanziari e di marketing del club. Ha già iniziato a fare esperienza negli Stati Uniti dove, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel dicembre del 2023, ha lavorato con i dirigenti del Los Angeles FC. E ovviamente, ragazzi, mentre giocava nella Juve e contribuiva ai nuovi scodetti consecutivi, Chiellini ha conseguito anche una laurea in Business Administration, unendo così la sua esperienza tecnica alle sue competenze economiche acquisite durante gli studi. Tra l'altro, questa combinazione di esperienze e competenze, ragazzi, quindi la combinazione di esperienza calcistica e quella economica, fa sì che molti nel mondo del calcio, e non solo, vedano in Chiellini il potenziale per diventare un Karl Rumenig della Juventus. Proprio come il tedesco, che ha trionfato sia sul campo che come dirigente del Bayern Monaco, Chiellini punta a fare lo stesso. Inizialmente Chiellini non ricoprirà ruoli simili a quelli di Pavel Nedved, che è l'ex vicepresidente, né avrà una posizione simile a quella di Slatan Ibrahimovic o Paolo Maldini. Lavorerà principalmente negli uffici della Juve, interagendo con Scanavino, con Giuntoli e con Motta, e non avrà responsabilità tecniche di mercato. Il suo focus sarà sulla gestione aziendale. Non sarà simbolico, ma avrà un focus operativo. E poi ovviamente il ritorno di Chiellini completa la rivoluzione della dirigenza della Juventus, avviata lo scorso anno con l'arrivo del direttore tecnico Giuntoli e proseguita con l'aggiunta dei suoi collaboratori di fiducia, Pompilio, Stefanelli e Sbravati. Vi ricordate tutti, ragazzi, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Chiellini troverà una Juventus cambiata rispetto a quando l'ha lasciata come giocatore, ma potrà anche riabbracciare persone che conosce bene, a partire dal suo gemello Claudio, ora direttore sportivo della Juventus Next Gen. Allora, questa è una bella notizia, sicuramente. Ci fa un pochino ambire a delle cose maggiori. Allora, io ho sempre detto una cosa per quanto riguarda la dirigenza della Juventus. Io ho detto che la dirigenza della Juventus è una dirigenza che latita di esperienza in campo. Cosa vuol dire? Che va bene prendere un direttore dell'area sport, va bene prendere un direttore generale, va bene prendere un direttore sportivo. Il problema però è quando tu prendi un direttore generale, un direttore dell'area sport, che tuttavia non sono parte della Juve. Secondo me il successo di una squadra dipende anche dai dirigenti, soprattutto dai dirigenti. Io credo che nessuna squadra importante possa esistere senza dirigenti veri. Cioè io non ho mai visto una squadra forte trascurare questa cosa qua. Quindi è normale che quando mi dici che Chiellini torna, è un ritorno su cui io rifletto. Perché Chiellini non è solamente un burattino. Cioè Chiellini non torna qua per essere Chiellini. Non c'entra niente Chiellini. Torna qua per essere il dirigente della Juve. Quindi arriva per aiutare la parte sicuramente, diciamo, di scelta della Juventus. Quindi è un tipo di, diciamo, dirigente che da questo punto di vista, secondo me, può essere molto intelligente, può essere molto interessante. E mi meraviglio che non sia stato fatto entrare prima. Vi devo dire la verità, nel senso che dipendesse da me gente come lui e altri che hanno fatto parte ovviamente della nostra grandissima storia. Della Juventus sarebbero comunque tutti dirigenti o comunque figure all'interno della società. Credo che sia opportuno dire che molto spesso dipende anche da chi c'hai al comando. Chi c'hai al comando dice tanto, secondo me. Può dire sicuramente molto a proposito della situazione che arriva alla società. Credo che la Juve abbia bisogno di figure juventine. Cioè credo che all'interno della Juve ci sia bisogno proprio di gente che ti fa Juve, che sa cosa vuol dire la Juventus. Di gente che ha vissuto qui per tanti anni. Cioè che conosce bene quelle che sono comunque le situazioni che si creano all'interno delle stagioni. E credo che Chiellini sia uno dei nomi comunque più adatti, uno dei profili secondo me più intelligenti da mettere in società. Lui lo vedo proprio un ragazzo basato. Sapete, basato vuol dire un ragazzo equilibrato, un ragazzo che sa che cosa vuole, un ragazzo intelligente. Quindi è un talento che secondo me va coltivato, quello di Chiellini. Perché Chiellini è giovanissimo, non ha nemmeno 40 anni. Quindi può fare una carriera da dirigente veramente incredibile. Può vincere veramente tanto con la Juventus. E io sono contento di riaverlo qua. Perché credo che una figura come Chiellini manchi all'interno della società. Io credo che la società sia piena di gente capace, assolutamente. ma capace in senso generale, non in senso calcistico. Credo che il calcio all'interno di questa società sia rimasto un po' trascurato. Cioè io credo che da questo punto di vista la Juve si sia occupata poco di calcio negli ultimi anni. Per tutto quello che è successo, per tutto quello che voi avete visto, credo che la Juve anche a livello dirigenziale abbia poco di calcio. Quindi ho sempre detto ci vuole una figura calcistica, una figura che comunque vada da questo punto di vista a chiarire quali sono le realtà delle cose. Secondo me Chiellini rappresenta proprio il nome idoneo per quello che farà. Però vorrei che Chiellini fosse veramente... Cioè spero che Chiellini... Io credo che lui sia talmente capace e talmente intelligente che può già iniziare da un ruolo importante. Poi ci vorrà tempo, giustamente dovrà fare pratica. Sicuramente siamo tutti consapevoli di questo. Nel senso lo capiamo benissimo. Però comunque credo che lui sia talmente intelligente e talmente comunque un tipo idoneo a quello che sta facendo che secondo me può cominciare subito con un ruolo importante. Cioè è uno che ha già capito dove sta, non ha bisogno di abituarsi. Lui lo sa dove sta. Cioè al capito c'è stato vent'anni qua, quindi figurati. Non ha... Scusate la voce ragazzi, ma a furia di parlare capirai. La voce va via come quando canti. Quindi è normale che hai da questo punto di vista una figura molto 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 importante per quella che è l'aspetto dirigenziale. Credo che la Juventus sia una squadra nuova. Quindi è una squadra che comunque deve lavorare tanto per ottenere quello che vuole. È una squadra in cui Chiellini sicuramente può lavorare bene. Ed è una squadra che a mio avviso può assolutamente diventare più capace con Chiellini. Cioè Chiellini dà proprio stile alla Juventus. È un tizio che secondo me dà gente. Chiellini è comunque una figura importante. Cioè è un tizio secondo me da prendere e da coltivare. Ecco, io non voglio vedere contestazioni perché Chiellini veramente, a meno che veramente non fa delle scelte ridicole, ma non credo. Però veramente io penso che Chiellini sia un giocatore, sia stato un giocatore e sia un dirigente talmente intelligente, ripeto, che tranquillamente non credo che possa fare scelte sbagliate. Quindi mi fa piacere del suo ritorno, devo dire la verità. Mi rende veramente molto felice. E voglio sapere un pochino da voi cosa ne pensate. Perché io sono curioso di conoscere qual è la vostra personale opinione a proposito ovviamente di questa situazione. Quindi fatemi sapere un po' voi. Siete d'accordo con il ritorno di Chiellini? Vi piace, non vi piace? Voglio sapere un po' il vostro personale parere.